c'entra anche questo il gomito sta già in leva ora facciamo un tono di piedi poi dopo lo vediamo quindi il gomito prendo il gomito una volta che io vado alla stessa del suo la verticale scende non vado giù ma semplicemente fa così ora si vado a guardare dietro tanto è che posso venire la gola e poi la garanzia è che comunque si apre esatto